In un ipotetico talent mi potrei esibire come pittrice. In un ipotetico talent sicuramente mi esiberei in una performance sonora di canto, visto che mi dicono tutti che sono intonatissimo, nel senso che sono completamente sonato e mi farebbe piacere cantare. In un talent mi piacerebbe suonare, cantare. Se ci fosse un talent non ci andrei per niente. Vorrei far vedere come una persona non vedente può affrontare la vita di tutti i giorni, anche grazie al cane guida. In un ipotetico talent penso che mi esibirei con un bel ballo in carrozzina. Il prossimo viaggio dopo Tokyo, dal punto di vista sportivo, spero sia Parisi 24. Dopo Tokyo 2020 andrò un pochino in montagna, in Alta Badia, per rilassarmi e vedere un po' le montagne, basta acqua. Mi piacerebbe andare in Spagna. Dopo Tokyo credo che la mia prossima meta vacanziera sarà proprio Roma. È una città che ho sempre visto, ma marginalmente. Vorrei viverla proprio nel profondo. In cima alla lista c'è sicuramente la Nuova Zelanda e poi anche New York. Ho pensato di andare con mia moglie alle Maldive.